Salve ragazzi, rieccoci Allora, questo è il commento di Milan Udinese Eh beh, il Milan ha perso a San Siro, ha perso in casa Clamorosa sconfetta per il Milan E diciamo che Secondo me alla fine il Milan non è che abbia creato poi così tanto Era una partita sinceramente da 0-0 Però l'ho visto che l'Udinese era rimasto molto una squadra compatta Che ci provava E me l'immaginavo che alla fine poteva fare l'impresa a San Siro E alla fine ce l'ha fatta con un gran cross dalla destra di Badu Destro di Perizza deviato da Abate e spiazza Donnarumma Un gol anche fortunoso Però il Milan oggi non è riuscito a creare niente Bacca è veramente un fantasma oggi Non è riuscito a prendere una palla, non è riuscito a liberarsi una volta Forse anche per merito dei difensori dell'Udinese Però uno come bacca deve tentare di fare di più Ecco, tutto qui Ovviamente devo fare i complimenti all'Udinese Perché venire a San Siro E fare la partita che ha fatto Una buona partita Senza concedere chissà quanta occasione al Milan Non è facile Dopo Dobbiamo anche dire che A volte il calcio è un po' crudele Dobbiamo anche dire che il Milan Poteva anche fare gol In qualche occasione l'ha avuta Ed è stato anche a volte un po' sfortunato Però Insomma, l'Udinese non si è mai disunito È rimasto compatto Attaccava sempre in contropiede Poi creava anche qualche pericolo al Milan E alla fine il Milan Pensando di portare a casa un pareggio Ha allentato la presa E l'Udinese ha colpito E quindi questa è una vittoria molto importante per l'Udinese Devo dire che l'Udinese ha un grande allenatore Secondo me Iachini è veramente un grande allenatore Mi è sempre piaciuto Un allenatore che ha grenta Molto bravo Ci sono tanti allenatori che sono più bravi di lui Però lui è un buon allenatore Veramente È veramente bravo E quindi niente ragazzi Vittore clamorosa dell'Udinese E ci rivediamo tra poco con il commento di Chievo Lazio Ciao ragazzi E forza Juve Ciao